Nella bellissimo Borgo di Loreto Prutino, un cast di 24 attori provenienti da tutta Europa animerà dal 30 maggio al 5 giugno le vie del Borgo, trasformate in un grande set cinematografico per una full immersion formativa rigorosamente in lingua inglese. Le lezioni si terranno nel suggestivo Teatro Dedeo, piccolo gioiello Vanto di Loreto, reso disponibile dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Sterinieri. Durante la settimana sarà organizzato un incontro nelle terre di No Man's Land Foundation a Rotacesta. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società abruzzese Icta, diretta da Germano del Conte e Giorgio Montebello, artisti 7607, la Collecting, fondata tra gli altri da Luca Dascanio, Elio Germano, Neri Marco Re, Cinzia Mascoli e Claudio Santamaria, che in termedia ha i diritti connessi al diritto d'autore dei più importanti attori italiani. Il workshop sarà diretto da Michael Amargotta, uno dei più importanti acting coach al mondo e membro dell'actor studio. L'idea è nata da che cosa? Sempre dalla voglia, come noi già l'anno scorso abbiamo fatto con il Germano, di promuovere il nostro territorio, ma non promuoverlo perché è la base della nostra vita, promuoverlo perché riteniamo sia un'eccezione alla comune linea, diciamo, del paesaggistica. L'Oreto è proprio un borgo che si presta molto bene rispetto al fatto che, oltre ad essere molto concentrato, vista dalla strada che porta a L'Oreto, pare sempre di essere in un presepe ed è un'idea che poi porta la sensibilità all'interno di chi va a interpretare un ruolo artistico. Il primo è stato a Capestano con Elio Germano, questo secondo ha questo respiro dove Michael Margotta, che è un membro dell'actor studio, intervengono attori che vengono dall'Inghilterra, come Douglas Dean, attori come Joseph Adbagni, che ha avuto il premio Ubu come miglior attore Under 75. Quindi è una, diciamo, una serie di circostanze ci stanno portando a creare delle possibilità di accendere dei riflettori su delle realtà virtuose anche come intento, sia per creare attenzione in dei territori che si sono dovuti ricostruire, che hanno bisogno chiaramente di essere.